Eccoci ritornati in diretta, come abbiamo avuto modo di dire fin dall'inizio della puntata, il 28 luglio è una giornata importante per la città di San Giovanni Rotondo, ma direi più in generale per l'intera famiglia di Padre Pio, perché 107 anni fa, il 28 luglio del 1916 appunto, giungeva in questa terra per la prima volta il giovane Padre Pio da Pietrelcina. E allora questa mattina per rievocare quelle che sono un po' i vari percorsi storici, ma anche le sensazioni a partire da quella giornata abbiamo in studio con noi il direttore Stefano Campanella. Buongiorno e bentrovato Stefano. Buongiorno a te Leo e buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque, una data importante, quella di quest'oggi, San Giovanni Rotondo la festeggia denominando la giornata del ringraziamento. Abbiamo condiviso con i nostri telespettatori il programma di questa giornata, con questa tradizionale fiaccolata che partirà dal luogo in cui è giunto Padre Pio da Foggia, perché lo abbiamo detto, Padre Pio arrivava dal capoluogo in una calda estate, probabilmente come questa, non lo sappiamo, come quella che stiamo vivendo per le temperature. Però Padre Pio giunge a San Giovanni Rotondo proprio per trovare refrigerio dalla calura che tanto lo opprimeva. Sì, in effetti fu provvidenziale il fatto che per il triduo di Sant'Anna fosse salito da San Giovanni Rotondo a Foggia, o sceso a seconda del punto di vista, se diciamo, di latitudine o longitudine o se di altezza proprio sul livello del mare, Padre Polino da Casa Calenda che era il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. E vide questo giovane frate che non riusciva neppure a dormire nel suo letto. per poter prendere i refrigerio era costretto a dormire nel salone del convento con tutta la finestra spalancata. Era spossato dal caldo a foso di Foggia e gli propose di trascorrere qualche giorno nel suo convento a 600 metri di altitudine sul livello del mare. Padre Pio era un po' riluttante perché voleva ottenere il permesso del suo provinciale, però Padre Polino e Padre Nazareno che era il guardiano del convento di Foggia gli fecero presente che le costituzioni, cioè l'atto normativo dei frati minori Capuccini in vigore all'epoca per spostamenti da un convento nei conventi limitrofi non prevedevano l'autorizzazione del provinciale. Per cui ottenuto solo il permesso dei due guardiani, Padre Pio fece questo primo passaggio, questo esperimento è trascorso in effetti un po' di giorni salutari dal punto di vista anche delle sue condizioni fisiche a San Giovanni Rotondo, però ebbe una sorta di sensazione interiore, cioè che il provinciale aveva saputo di questo spostamento avvenuto senza la sua autorizzazione e che non era contento. Difatti se ne tornò a Foggia, Padre Pio, e a Foggia trovò la lettera di Padre Benedetto che non tanto in quanto provinciale, perché comunque quella autorizzazione dei due guardiani era valida, ma in quanto direttore spirituale di Padre Pio riteneva di dover essere messo al corrente. Padre Pio si scusò di non averlo avvisato e disse a Padre Benedetto, o meglio scrisse a Padre Benedetto a San Giovanni Rotondo mi trovo bene, posso trascorrere un altro po' di tempo lì, autorizzazione concessa e Padre Pio tornò per la seconda volta il 4 settembre e da allora non si è più mosso, benché anche quella volta doveva essere una soluzione temporanea, salvo che per brevi periodi già programmati, tipo il servizio militare o tipo quando accompagnò la sorella a Roma per entrare dalle brigidine. E in effetti la storia sappiamo poi come è andata a finire, una storia che come dicevamo in apertura di puntata si scrive giorno dopo giorno, anche a distanza di 107 anni, un amore che poi diventa viscerale, potremmo dire, quello di Padre Pio per la città di San Giovanni Rotondo e per il suo popolo, che in qualche maniera si legano indissolubilmente. Quest'anno poi tra l'altro ricordiamo anche il centenario di una lettera importantissima che Padre Pio ha scritto all'allora sindaco di San Giovanni Rotondo, Francesco Morcaldi. Voglio leggere giusto un passaggio. Io ricorderò sempre codesto popolo generoso, riferendosi appunto a quello di San Giovanni Rotondo nelle mie povere preghiere, implorando per esso pace e prosperità. E quale segno della mia predilezione, null'altro potendo fare, esprimo il desiderio che ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra. In effetti è andata a finire così poi. Sì, questa lettera ha un antefatto. La decisione del Santo Uffizio di spostare Padre Pio da San Giovanni Rotondo in un altro convento lontano, o nelle Marche o addirittura all'estero. Il popolo di San Giovanni Rotondo insorse ed era pronto anche ad atti al di fuori di ogni razionalità pur di impedire questo trasferimento. Si arrivò persino un muratore, arrivò persino a puntare una pistola contro Padre Pio dicendo tu non te ne vai più da qui vivo o morto, come pure sfondarono il portone del convento quando videro arrivare un frate, peraltro un frate minore dell'osservanza, non un cappuccino. Questo arrivo fu ipotizzato come l'arrivo di chi avrebbe dovuto portare via Padre Pio. Quindi questo trasferimento fu sospeso temporaneamente perché anche la prefettura e il ministero degli interni temevano una sommossa popolare con spargimento di sangue. E lo stesso Padre Pio, proprio per evitare che ciò avvenisse, scrive al sindaco dell'epoca Francesco Morcaldi, la seconda parte è quella che abbiamo detto, ma nella prima parte Padre Pio chiede al sindaco di fare in modo che lui possa obbedire alle disposizioni date dall'alto. Quindi Padre Pio era disposto all'obbedienza, si dispiaceva che San Giovanni Rotondo, qualora questa obbedienza si fosse concretizzata, sarebbe rimasta orfana di un padre, quale era Padre Pio per tutti, ma al tempo stesso voleva ricompensare questo popolo pensando di poterci tornare da morto. Poi le cose sono andate come sappiamo e il trasferimento è stato sventato. L'ultima sottolineatura che vorrei fare a proposito di questa giornata, Stefano, è relativa all'albero che è stato piantato in quella che è stata denominata Piazza 28 Luglio 1916 nel cuore di San Giovanni Rotondo, questo albero che vuole simboleggiare una visione. Stiamo vedendo ecco qui le immagini grazie alla nostra regia. Inaugurato questa piazza in occasione del centenario dell'arrivo appunto di Padre Pio a San Giovanni Rotondo nel 2016 in pieno giubileo straordinario della misericordia, un albero che ha una caratteristica particolare o meglio un significato particolare. Quell'albero richiama una visione del 1906, quindi dieci anni prima dell'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo avuta da Lucia Fiorentino che poi diventerà figlia spirituale di Padre Pio e che aveva dei doni mistici. Lei vide un grande albero piantato nel convento di San Giovanni Rotondo e sentì una voce interiore che diceva che sotto l'ombra di questo albero si sarebbero rifugiati da tutte le parti del mondo. A distanza di diversi anni, dopo l'arrivo di Padre Pio esattamente nel 1923, Gesù le rivelò che quell'albero era Padre Pio e che da tutto il mondo sarebbero arrivati per trovare refrigerio spirituale all'ombra di questo grande albero. E allora abbiamo ben capito che questa giornata è importante perché è una giornata che segna una sorta di spartiacque nella storia di San Giovanni Rotondo e della famiglia spirituale di Padre Pio. Noi rivivremo, mentre queste sono le immagini relative allo scorso anno, questa sera, questo evento così importante. Domattina poi vedremo insieme le immagini e ascolteremo alcuni interventi significativi. Nel frattempo Stefano, io ti saluto e ti ringrazio per averci spiegato le ragioni di questa giornata così importante. Ci fermiamo per la pubblicità e poi insieme vedremo un breve video relativo al 28 luglio.